Un'occasione per presentare i brani del suo nuovo album e non solo. Giovedì 5 gennaio alle ore 21, Lello Nalfino, frontman e tinturia, sarà protagonista a San Cataldo in piazza Papa Giovanni XXIII in concerto nel suo Io mi diverto in tour. Sarà una serata contraddistinta tra brani del passato e nuove composizioni tratte dal lavoro punto e a capo, un disco caratterizzato da sonorità moderne, elettroniche e quasi psichedeliche. E avevamo promesso alla città tutto un altro Natale. Questo è stato, l'amministrazione in questo Natale ha organizzato tanti, tanti, davvero tanti eventi. Concerti, ricordiamo i bedri, ricordiamo Mario Incudine, e vogliamo e volevamo continuare in questo modo. Il 5 gennaio Lello Nalfino si esibirà davanti il Palazzo Comunale. Già frontman dei tinturia, Lello Nalfino non ha bisogno di presentazioni. Ed è un modo per ricominciare, è un modo per dare alla città dopo un anno di amministrazione un segno chiaro che dopo la pandemia questa città è pronta a vivere per i nostri giovani e per tutti i cittadini. Siamo molto orgogliosi di questo evento che siamo riusciti a regalare alla nostra città di San Cataldo in conclusione di una serie di eventi e di manifestazioni che abbiamo svolto durante questo Natale. La data del 5 gennaio non giunge a caso. Vogliamo concludere le festività natalizie ma iniziare un nuovo anno con i buoni propositi ringraziando tutti i cittadini, tutte le persone che ci hanno dato fiducia e ci hanno sostenuto in quest'anno e sono state davvero tante.